A Teramo il comitato di quartiere Santa Maria Bitetto chiede chiarezza dopo la decisione del comune di qualche giorno fa di rieprire le due vie del centro città, chiusi al traffico nel 2017 a causa del palazzo fatiscente presente in via Muzzi e Vico del Cigno. Una scelta quella del comune che fa preoccupare i residenti, visto che a detta del comitato in questi anni non sono stati fatti i lavori di messa in sicurezza del palazzo. La situazione è sempre più drammatica però in questo caso è una barzelletta di riei, anche fantastica perché l'edificio in questione che sta a Teramo in via Muzzi e Vico del Cigno era da demolire. Abbiamo noi come comitato di quartiere Santa Maria Bitetto, abbiamo fatto un esposto alla Procura della Repubblica dicendo del problema e è rimasto tutto in evaso. Non si capisce dove si andrà a finire, la situazione è rimasta uguale, identica, spiccicata, però la cosa fantastica è che quasi da un anno e mezzo, due anni, ci avevano transegnato le strade sia Vico del Cigno e via Muzzi, quindi impossibilitato a uscire e entrare, ci avevano chiusi i garage, cose devastanti, perché l'edificio era pericolante, quindi il rischio c'era e il rischio c'è. Però di colpo venerdì hanno riaperto tutte le strade, quindi come per magia l'edificio non è più pericolante, tutto in sicurezza, secondo loro è rimasto tutto identico, però hanno riaperto tutte le strade come se non fosse successo niente. L'edificio era pericolante, è rimasto pericolante, non sono state fatte delle operazioni di messa in sicurezza, siamo ancora più preoccupati di quando le strade erano chiuse, anche perché l'edificio resta pericolante, l'unica strada di accesso adesso si entra lì con le macchine, quindi può crollare come crollava prima da un momento all'altro, perché prima anche con le piogge, con le cose, si sente dentro, perché anche io ho un'abitazione adiacente, quindi lo sentiamo dentro dei crolli, però come per magia almeno prima le strade erano chiuse, ma non vogliamo che le strade siano chiuse, siano riaperte, vogliamo una cosa equa che rimetta a posto questa situazione, che è diventata veramente una grande barzelletta.